È diventato più buono a Natale, Renzi, l'avete capito subito? Ma io sono ormai di una bontà, sono di una bontà, veramente... Buon Natale, tanti auguri, buon Natale a voi, ragazzi miei. Adesso ci facciamo qualche gioco di vacanza, ce lo meritiamo, francamente quest'anno ce lo meritiamo. Torniamo presto, Matteo Renzi, torna da me a gennaio perché mi deve raccontare come va la datativa dal 28 di poi. Ditta così sembra una minaccia. Eh ma lei torna però, mi ha detto di sì, mi ha detto di sì. Io torno, ma lasciamo passare il Natale tranquillo. Arrivederci a tutti. Buon Natale, buon Natale, buon Natale davvero. Con tutto il cuore.